Il responsabile dell'associazione Mari Amico, Claudio Lombardo, interviene oggi sulla condizione in cui verse il porticciolo turistico di Portopalo di Menfi, zona che, come rivela anche un video pubblicato sulla pagina Facebook del sodalizio, allevante risulta essere insabbiata al ricolma di resti di posidonia oceanica in putrefazione. Questa condizione, stando a quanto denunciato pubblicamente da Mari Amico, provoca una riduzione del numero delle barche che possono attraccare in porto, ma anche problemi igienico-sanitari causati dalla marcescenza di queste piante che si depositano sulla sabbia. Claudio Lombardo invoca un intervento urgente di bonifica superficiale, ma anche un progetto di dragaggio del porticciolo Mari Amico, nel fare questa denuncia, mette in evidenza come questa condizione sia in sostanziale contraddizione con il massimo riconoscimento della qualità del mare, ovvero sia quella bandiera blu che è il comune di Menfi in camera da ben 27 anni. Purtroppo, fa notare a Lombardo, non si può dire lo stesso del porticciolo turistico. Grazie.